Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo un video di questo nuovo video, naturalmente, come sempre ricordo di distruggere un like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di Telegram. Oggi andiamo a parlare, in particolare, focus su XRP, perché ci sono importantissime notizie, ma non solo, andremo a analizzare anche quello che il grafico di Bitcoin è, in particolare, di Solana. E per cui, iniziamo subito. Lo hai fatto? Per cui andiamo a vedere quello che sta avvenendo in questo momento all'interno del mondo altcoin. Vediamo XRP, più 5,1%, e in generale c'è stato un bel dump da parte delle altcoins, perché abbiamo visto ieri come Bitcoin è andato a dumpare un 4%, per attenzione, perché dal mio punto di vista potremmo presto tornare bullish non solo su Bitcoin, ma anche sulle altcoins. Ora focus su Ripple, in questo momento prezzo di 0,53 centesimi e 4, un XRP che in questo momento sta facendo letteralmente scale rockets market cap di 28 miliardi, volumi per 1,7 miliardi e più 93% sul giornaliero per quanto riguarda i volumi. Quindi attenzione, perché i volumi qui potrebbero iniziare a spingere in maniera massiva e secondo me Ripple potrebbe andare a prendere alcuni target che ora andremo a vedere. Per cui secondo me è un ottimo momento per trarre Ripple, ovviamente vi ricordo, trovate sotto il graph in descrizione dei vari exchange che sto utilizzando, quindi potete trarrearli lì. Andiamo a vedere il perché, potrebbe essere interessante, potrebbe esserci una spinta rialzista proprio su XRP. Primo elemento, vi ricordo, di data 13 luglio 2023 c'era già stata la vittoria di XRP contro la SEC, perché in sostanza si è andato a chiarire, XRP non è una security all'interno del caso di XRP con la SEC, che sappiamo come la SEC ha messo letteralmente i bastoni tra le ruote e attenzione perché quella prima causa che avevamo avuto, e poi oggi c'è stato un altro risultato vincente da parte di XRP nei comprati della SEC, era già stato detto da Deaton uno dei principali avvocati all'interno del mondo cripto statunitensi che potrebbe diventare legge, ok, entro tre anni. Perché come sappiamo negli Stati Uniti vige la legge precedente. Quindi se un giudice dichiara o che è una determinata situazione, la va a provare, diviene legge in base al precedente, ok, quindi molto differente, ok, rispetto all'Italia, la legge statunitense. Andate a vedervi anche il diritto costituzionale comparato con gli altri paesi, materia che io studiai all'università. Dopodiché andiamo a vedere quello che è il prezzo che dirì, poi che va a salire del 4%, perché praticamente è stata risancita, o che potremmo dire così in appello, la sentenza, ok, che già fu fatta il 18 di luglio, quindi siamo andati a confermare questo, e questo ha decretato uno Sky Rockets di Ripple. Ora, vorrei mostrarvi quello che avvenne, perché sicuramente abbiamo avuto lo Sky Rockets che abbiamo avuto in precedenza, ok, quando raggiungemmo le 3.1$, ok, lo vediamo chiaramente all'interno di questo grafico, però comunque c'è stato un bel pump, ok, un bel pump del 4%, assolutamente non comparabile, ok, è il famoso Sky Rockets proprio del 18 luglio 2023. Però, ok, cosa potrebbe venire ora? Allora, siamo andati a prendere, ok, questa resistenza, ok, addirittura dei 0,55 centesimi, attenzione, perché in caso di breakout di questa resistenza, allora Ripple diviene fortemente bullish. Quindi, strategia che potremmo attuare, ma è riaspettare, ok, i target dei 0,55, che secondo me potremmo andare a prendere, molto probabilmente, quindi lo si potrebbe tradare anche fino a zona 0,55, per poi, eventualmente, ok, valutare l'uscita, ok, quindi potremmo prendere 0,55, portare a casa, ok, come primo alliemento comunque sarebbe un 4% che è assolutamente normale. E vedere che cosa succede, secondo la strategia, rottura i 0,55 ed entrare, ok, ma per sicurezza entrare in zona 0,56. Comunque, in ogni caso, vedete che il supporto di Ripple è 0,47, quindi cosa potrebbe avvenire? Potremmo fare anche 0,55, la news c'è stata, nuovamente torna giù, ma io attendere più queste zone, ok, se non siete ancora entrati. Comunque, diciamo, questa è la strategia che io andrei a attuare. Dopodiché, andiamo a vedere anche, se il giornaliero l'abbiamo già visto, andiamo a vedere anche quella che è la situazione, ok, per quanto riguarda Stati Uniti d'America, quella situazione preoccupante, che è quella del debito, perché sta salendo day after day, giorno dopo giorno, e sicuramente Bitcoin potrebbe essere una soluzione. Debito che è arrivato a 33.4 trilios, ragazzi, in un solo giorno siamo andati quasi ad aumentare della metà quella che è il debito rispetto a tutto il market cap delle cripto, giusto per darmi idea, siamo andati ad aumentare di 400 miliardi, ok, in un solo giorno, e vi ricordo che comunque il mondo dei criptovalute capitalizza 400 miliardi, no, scusate, capitalizza un trilios, ok, un trilios di zero syndrome, poi a vederlo, però è circa un 40%, quindi veramente è un qualcosa di assurdo, ok? Quindi ora vorrei andare a vedere con voi quello che potrebbe avvenire su Bitcoin in questo momento, vi ricordo i famosi, ok, bottom che abbiamo avuto, meno 96% del 2012, ok, quel famoso di Empty Gox, meno 86% Bitfinex, guardate come i precedenti anche bear market furono caratterizzati dai dump attribuibili all'exchange, dopo Covid crash e infine quelli di FTX, quindi sempre gli exchange protagonisti di questi bear market, quindi qual è la situazione? Il bottom potrebbe essere già stato fatto, ok, andiamo a riassumere, e stiamo realizzando all'interno, abbiamo visto dell'area di supporto dei 25 mila, quindi quello che ci dice Stock Money Lizards, che presto dovremmo prendere, rompere questo supporto e andare su, avevamo già visto addirittura come si è chiamato anche la zona dei 48 mila, ok, nel lungo periodo, ora, a breve periodo, cosa potrebbe venire? Lui ci ha ipotizzato anche un possibile ritracciamento nuovamente in zona 27 mila, che era che era realizzata da questa tre linea discendente, per poi prendere e ripartire. Ora, andiamo a vedere, scusate, qual è che la mia convinzione, ok, su BTC in questo momento siamo a 27 mila, 539 dollari, abbiamo questa importante resistenza, ok, dei 27 mila e 600 dollari, perché ci siamo vicinissimi, però quello che mi piace è la seguente cosa, cioè, se andate a fare supporto in zona 27,2, dove praticamente abbiamo delle medie molto importanti, in particolare quelle di 200 periodi, quindi attenzione, perché secondo me da qui potremmo prendere e ripartire. Ovviamente, voglio mostrarvi anche quella che è la situazione poi su settimanale, settimanale che secondo me, in questo momento per l'appunto è molto buono, come possiamo vedere, e potremmo avere ancora spinta rialzista, secondo me i 29 mila sono più che fattibili, e in questo momento io vado a confermare, ok, quella che le mettesi, che secondo me Bitcoin è tornato, letteralmente, bullish. Abbiamo, ok, questo punto di massimo sui 28,6, che secondo me presto potrebbe essere letteralmente rotto, perché? Perché primo abbiamo volumi, e secondo elemento è vero che abbiamo anche questo altro supporto sui 26 mila, però guardate i supporti crescenti che siamo andati a costruire. Questo è il strong support dei 24,8, poi nuovo supporto dei 26 mila, e ora sembrerebbe esserci un ulteriore supporto, quello di 27 mila e 200 dollari, quindi attenzione, vi ricordo 27,2, che era anche prima un'importante resistenza, quindi pian pianino secondo me Bitcoin sta costruendo, ok, un solido muro per prendere ed andare su. Poi vorrei andare a vedere con voi anche quella che è la crypto della market cap, secondo me questo è tra virgolette l'elemento più curioso, ok, tra quelli esistenti al momento, perché come sta cambiando la struttura sulla total, che è il mio elemento più importante? Allora, la struttura sta cambiando nel seguente modo, prima avevamo le medie mobili che ci facevano a tetto, lo vediamo chiaramente fino al 30 agosto del 2023 era così, ora sembrerebbe esser iniziato il contrario, cioè le medie mobili ci stanno facendo da spinta, ok, ci stanno sollevando, ci stanno facendo supporto, quindi attenzione, ok, a questo elemento, non sottovalutatelo, e potremmo chiudere nuovamente in zona 1.16 da Trinus, ok, questa è la mia convinzione tematica, ovviamente noi all'interno del gruppo Cowboy abbiamo già stata la strategia, quindi se vuoi entrare, ok, abbiamo ancora un posto disponibile. Dopodiché andiamo a vedere anche la Bitcoin Dominance, che in questo momento si trova a 50 e 50, quindi comunque un Bitcoin che sta continuando ad andare a prendere forza nei confronti delle altcoins, e abbiamo la prima allistenza sui 50 e 64, quindi praticamente ci siamo, da qui potrebbe iniziare un rally delle altcoins, abbiamo visto anche già come Soliana è andata a fare numeri pazzeschi, però chiusura, ok, ci abbiamo sul livello di 51, quindi è molto interessante il tutto. Andiamo infine a chiudere, ok, con Soliana. Soliana che secondo me in questo momento è super, iper, mega bullish, ok, una di quelle coin che tra virgolette sta andando a fare numeri, siamo a 23,66, e dal mio punto di vista il target prossimo potrebbe essere proprio quello dei 26 dollari. Ovviamente dove sto trovando io e Soliana? Sto trovando su BitGet, trovi sotto la descrizione, avrai anche 20% di sconto sulle trading fees. Infine vorrei andare a chiudere con Pepe, ok, perché secondo me è una di cui le altcoins maggiormente sottovalutate, siamo in questo momento sotto a tutti i medi mobili. Abbiamo la media, ok, a 20 giorni, che ha iniziato a fare supporto e attenzione, perché potremmo avere un nuovo supporto con le i700, quindi abbiamo preso 8,50, retest, e secondo me ora Pepe potrebbe presto andare a spingere. Infine ti ricordo che ho aperto un nuovo, ok, canale Instagram, chiamatelo come volete, quindi se volete andate ad iscrivervi, andrò a fare letteralmente un Hardrop, ok, per cui per partecipare all'hardrop, hai tempo fino a domenica, ti basta mettere like, ok, post, commentare e possibilmente anche condividere. E per questo se ti è piaciuto questo video ti ricordo di subito il botone del like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto. Hasta la vista, hombre!